Se nessuno delle persone che ritengono di valere si interessa della cosa pubblica, cioè non decide di sacrificare una parte del proprio tempo e delle proprie energie per il bene di tutti, per l'amministrazione della cosa pubblica, ovviamente qualcuno lo deve fare, se quelli meglio non lo fanno, lo faranno quelli peggio. E questo qualche esempio c'è. Vediamo se nella prossima epoca storica, cioè quella dei ragazzi che oggi mi ascolteranno, qualcuno di loro, dei migliori tra loro, abbia voglia di interessarsi invece di diventare consigliere comunale, consigliere provinciale, regionale, parlamentare, comunque di dedicare parte di sé agli altri. La passione per la ras pubblica è nata tanti anni fa, una passione negli ultimi anni messa a disposizione dei più giovani e non solo. L'associazione Tra Tevere e D'Arno, preseduta da Stefano Tenti, sta infatti portando avanti nella scuola a retine un viaggio dell'educazione civica per comprenderne la sua importanza nella formazione di cittadini consapevoli ed attivi. L'ultimo appuntamento al liceo Francesco Redi lo ha visto come relatore in un incontro dal titolo Dal boom economico a Tangentopoli. Perché sappiano cosa è accaduto ai loro genitori e ai loro nonni. Forse non si può definire storia perché sono avvenimenti accaduti in epoche troppo recenti. Però raccontare una cosa, uno spaccato, un'epoca che ha fatto l'Italia, come altre epoche, ma molto recente, che loro non hanno vissuto data la loro età, ma di cui sentono continuamente parlare alla tv e comunque in tanti tipi di conversazioni ci è sembrata una cosa opportuna. Il liceo scientifico, dove siamo in questo momento, ha ritenuto di condividere questa opinione e infatti eccoci qua.